Oh 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 oh! Ridere! 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 Lion Gavernicolo! Ridere! 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 Perché oggi guardiamo animazioni di frame order ma quelle belle, non quelle che fanno schifo come l'altra volta. Perché, la capriccio? Queste fanno ridere. E dovrebbero essere ambientate in prigione, che è uno degli ambienti che a me mi garba di più. Non che io ci voglia andare, assolutamente no. Ma guardare là da fuori, ok? Che ci sta? È molto meglio. È meglio specificare queste cose che non si sa mai, no? Eh, di questi tempi. Che succede? Mancata la luce in prigione È pericoloso Potrebbero scappare i detenuti Eh Che Mi sta suggerendo lui Che cosa premere No Eh uno aprirà le celle Dice fallo te Ma lo ammazza Guarda sa vedere Perché insomma No Bravo 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 Meriti un premio Che succede? 48 56 Dove Deve morire oggi No 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 Dai ma è tristissimo Ma pure aiutare Cioè si è riattaccato lui la corrente Ma che Poverino Dai ma Vabbè Adesso ci ritirano su di morale Sicuramente Lui vedi Ha preparato un anello Eh Per la sua fidanzata Gianfranca Ancanca Molto bella Però cosa è successo? Quelli hanno un porceddu Un porceddu con l'anello Oh no Sono invertiti gli anelli E per lui cosa No Il suo è più Non ho capito Ah perché lui voleva fare le cose meno originali Capito? Quindi dice no Portaglielo invece Come ha fatto quell'altro Nel 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 Nella Nella cena Capito? Che faccio bella figura Capito? Così sì che si fa È molto più figo Ma lei se n'è andata No 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 Ma come No Ma mi dissocio Ma Ma com'è possibile? Ma non era Non c'era scritto che era indecente anche questo No Ma lei porchettava Ma io non ci posso credere Ma com'è possibile? Ma come Come si fa a pensare Ma io guarda veramente Boh Anche questo su youtube Eh Io non c'entro niente Pensavo fosse buono Vabbè Non scandalizziamoci Dai siamo nel 2k22 ormai Quasi Ha scoperto il fuoco Eh Questo era dove si incendiavano le scorreggie Non lo fate Pericolosissimo Mi allontano completamente da questo comportamento brutto Cioè ma poi Ma che divertimento è mai questo? Ma fate un Portate un gioco di carte Non lo so Portatevi un tablet Guardate i video la Ionici Che mi sembrano una cosa 20 per incendiarsi le puzze Questa poi è una Petomane Ma come Come si fa? Eh vabbè Poi ci arrivava King Kong Eh Mori De lui È bruciato tutti Vabbè È normale però Eh Seguendo le impronte Questi stanno andando a caccia di Bigfoot Probabilmente Quello di prima Attenzione che gli fa una scorreggia in testa Li Li stermina Di brutto Eh Belle le impronte di Bigfoot Eh Belle grandi Eh Vai 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 C'è presto Vai Seguile Seguile Vedi vedi No quello è il buco dove Bigfoot fa la cacca Non mi dire che schifo Perché qua tanto si pa... Eh lo sapevo io Io lo sapevo Eh To Porca Oh Tutte di cacca Ma com'è possibile? Non c'era scritto qua Non è che dice Ah sono quelle che fanno schifo Che schifo Bigfoot sei un porco schifoso Bigfoot Che schifo di Bigfoot C'è scorreggia Caga in giro Vabbè Bring Eh? Ah la cicogna che porta un bambino Questi aspettano ma lo sognano Vedi hanno la culla poverina Un pochino impolverata Perché questo bimbo non arriva Qui Però finalmente ecco la cicogna Che giunge da lontano Guardala una cicogna No è per un'altra famiglia Arca miseria È una delusione coccente questa poverini Un'altra cicogna Eccolo qui Eccolo qui E lei E lei È per un'altra famiglia Porca miseria Cosa vogliono fare? No No Sparare la cicogna è molto brutto No Ma è terribile Eh ma Cioè mi sembra che è giusto però Cioè non si fa Comunque Non andava bene Poi dopo non vengono più bambini La cicogna è morta No ma scherzi da ufficio Dai Uno leggero dove non c'è la cacca Ci sarà? Eh gli ha staccato la spina Eh Lui non si sta rivettendo però Poverino Sarà preso di mira Non va bene Eh No La pizzazzina Ma che cattivo scherzo No Eh cattivi Non va bene Questo è Bullismo no Mi dissocio Brutto Brutto Se non si ride in due Non è uno scherzo Eh Che succede? Una caca? Ci mancherebbe Se non c'è la caca qui Non sono animazione Di frame order No Ormai è il marchio di fabbrica Prima era già un francan canca Ultimamente è la caca Vabbè fa ridere la caca dai Tu son matto Che succede? Bla 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 Che? Cosa? Ma che è? Cosa succede? Non ho sto cappè No Si innamora Ma è una bambola finta Quella è gonfiabile Ferma Eh sapevo No No Ma uno scherzo dietro l'altro Poverino Questo era Tutto qua Eh non sa Cagata eh Non ho capito neanche Gioche di carnivals Le giostre Le fiere Bellissimo Bello bello Che bello Niente Eh dai Sei un piscione vero Eh vabbè Ultima pallina Sei un piscione Ma che piscione Vergognò Questa è Alex Da bimbo Quello invece è un mastro Guarda Eeeh Bravo Bravo Eh Che buon cuore pure Che buon cuore Che succede? Non mi dire Non può andare a finire male Dai Sembra un buon uomo Non accettate regali dagli sconosciuti Comunque Nel dubbio Eh Bello Bravo L'ha riempito di regali Va bene Ok No Se li stava facendo solo portare Mi ha dato un soldino Però Era un po' brutta come cosa Però Cosa ti devo dire Può succedere Non so Poteva chiedere Ma sono per me Ha dato per scontato Ha sbagliato No Questo è quello di prima Di nuovo Ancora Ma si vendicherà mai Speriamo Poverino Si vendicherà Dai Tira fuori Un po' di Di istinto Di sopravvivenza Vai No Vendicati Fai qualcosa Anche tu No Non patire Basta Dai Reagisci Dai Oh bravo Oh Bravo No Fai uno scherzo Anche tu No Gli hanno pure Dato fuoco Al cestino Dai No La cacca Sicuramente Ma No Si è pisciato No 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 Ma è eccessivo Ma mi sembra un po' troppo Così Non è uno scherzo L'hanno ammazzato L'hanno ammazzato Cioè Scusa È troppo Quasi morto Magari sta facendo uno scherzo Eh No Ah è vivo ancora Beh vedi Se sono Hanno imparato Eh Forse che hanno sbagliato Hanno esagerato E può andare No Non ha più le gambe Poverino No Ma Uco Anche la No Dai Ma come U Ma che U è U Dai Non ci può No Ma io non Guardo più Ma che U Ma con la sega Quella Ma Ma sono cose da vedere Ma io non lo so Ma veramente Fermiamoci che è meglio Ci vediamo stasera in live Ragazzi non mancate Alle 19 sul sito Viola LionWGF Live Tutto attaccato Ricordatevi anche che in tutte le librerie d'Italia Trovate il diario della fine del mondo Anche su Amazon Preordina Anzi non preordinatelo Perché è già uscito un bel po' Ordinatelo Prendetelo Vi piacerà tantissimo Sono sicuro Mi piacerebbe farvelo vedere meglio Ma purtroppo tutti i disegni Le figure Le cose Le parole Naturalmente Vengono bruciate dalla luce del video Quindi Difficile farvelo vedere Andate in libreria Apritelo E sono sicuro che vi conquisterà Per oggi Lion out E sono sicuro che vi è stato un bel po'